Ciao a tutti ragazzi sono Pander e questo video l'ho fatto partire un po' troppo tardi Sono in compagnia di Krull che si chiama Masterboard E niente stavamo facendo un pvp sregolare 3 contro 1 3 contro 2 3 contro 2 scusate solo che sai faccio un pvp Questo mi shifta Ne ho ucciso uno Si laggo un po' pace Oddio I scarsi No vabbè death un po' è capace però dai Death cosa? Questo è l'ascia Questo mi colpisce girato Un hit ogni venti li mette death Si? Hanno ancora mangiato la mela Questa la mangia Vai mettiamola all'angolo e non la facciamo più uscire Le mele bro? Le mele? Bella raga questo video finisce qua Lui è Krull Il suo canale è I'm giocadio Lo metto in descrizione Iscrivetevi al mio al suono Ciao bella Bella